Non c'erano mezzi, ha camminato tanto per le strade d'Italia per portare il Vangelo alle creature e quanto aveva il dubbio se doveva dedicarsi solo alla preghiera o anche all'annuncio della parola, il Signore Dio ci capie che doveva andare anche verso il popolo per annunciare la parola di Dio e portare il riconforto nella parola del Signore. E allora chiediamo a San Francesco con questa benedizione che tutti noi sappiamo prendere il largo, uscire dal nostro chiuso, dal nostro piccolo mondo, dai nostri piccoli interessi per fare i nostri gli interessi di Cristo che è uno solo, salvare le anime e anche noi collaboriamo in questa salvezza delle anime perché questo conta per la fine della nostra vita e siamo chiamati a vivere in eterno con Dio dove San Francesco anche ci aspetta nella gloria dei santi. Fratelli e sorelle rivolgiamo la nostra umile preghiera a Dio Padre Buono perché per l'intercessione del Serapico Padre San Francesco voglia peredire noi, le nostre famiglie, il nostro lavoro sul padre e concedereci di prosperità e salute. Diciamo insieme ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Da ogni male liberaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Liberaci dal flagello del terremoto e delle tempeste. Ascoltaci, Signore. Liberaci dalle riscontie della violenza e da ogni giustizia. Ascoltaci, Signore. Benedisci questa città di Forio e dono a tutti i suoi abitanti salvezza, prosperità e salute. Noi ti benediciamo e ti rendiamo grazie, Dio di provvidenza infinita, per i grandi segni del tuo amore per tutti gli uomini. Ti preghiamo per chi sia preservata da ogni inquinamento questo scenario di bellezza e questa sorgente di energia e di vita. Veglia sui pescatori, sui marinai, sulle loro famiglie e copri con la tua protezione le loro imbarcazioni. Risplenda il tuo volto, Padre, su coloro che sono morti in mare. La tua benedizione ci accompagni tutti nell'itinerario del tempo verso il porto dell'eterna pace. Intercedano per noi la Vergine Maria, il serapico Padre San Francesco e tutti i testimoni del Vangelo, i cui nomi sono scritti nel libro della vita. Per Cristo è nostro Signore. Per l'intercessione di San Francesco, il Signore vi benedica nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amén. 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 Amén.